Battesimo autunnale, anziché primaverile come era stato programmato, per l'iniziativa targata gruppo ACSM Agam e rivolta a bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Sondrio, Tirano e Valdisotto. Nella sala consigliare del Comune di Sondrio oggi la presentazione del progetto che si pone il duplice obiettivo di contenere la produzione dei rifiuti e di valorizzare l'acqua del rubinetto alla presenza anche di alcuni dirigenti degli istituti interessati, accompagnati da altrettanti piccoli volontari che avranno poi il compito di spiegare anche ai propri compagni la doppia valenza del dono che stanno per ricevere. Noi attraverso questa iniziativa di consegne di borracce in alluminio, alluminio oltretutto riciclato e made in Italy, questo è anche un altro elemento da sottolineare, noi quello che vorremmo, diciamo, questo gesto simbolico è per promuovere appunto questo cambiamento di comportamenti, piccoli cambiamenti che possono invece produrre grossissimi risultati da un punto di vista di impatto ambientale. È un'ottima iniziativa che va proprio a inserirsi perfettamente in quello che è una delle scommesse delle scuole di quest'anno che vedono il nuovo progetto di educazione civica, di educazione alla cittadinanza. Ecco, questo mi sembra un piccolo passo ma importantissimo per una sensibilizzazione in questo settore. È una bellissima attenzione che a GSM Agam ha rivolto ai nostri studenti che sono, diciamo, i destinatari dell'impegno sociale di questa azienda, con un impegno sociale molto forte, con un'ottima scelta, cioè un oggetto che questi studenti si porteranno sempre a scuola, una piccola borraccia che potranno personalizzare, ma non solo a scuola, farà parte anche del loro tempo libero, quindi educandoli anche ad avere un rapporto con l'acqua importante per la loro salute, ma anche un rapporto con l'acqua perché è una fonte di energia significativa, soprattutto per la nostra valle. Il gruppo ACSM Agam è una delle principali multi-utility italiane, frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio e Varese. Rappresentare la territorialità di ACSM Agam ha presenti oggi in Sala Consigliare anche Marco Bormetti e Francesco Conforti, rispettivamente presidente e amministratore delegato di RETI Altellina Val Chiavenna, distributore di energia elettrica territorialmente competente per i comuni di Sondrio, Sernio, Tirano e Val di Sotto. E per sottolineare ulteriormente l'importanza di evitare sprechi e produzione di rifiuti, il responsabile marketing di Acel Energia ha suggerito ai bambini presenti di invitare i propri genitori a richiedere le bollette elettroniche. Oltre ad alleggerire il lavoro del postino, si potranno risparmiare fino a 200 litri di acqua per ogni cliente, acqua necessaria per produrre la carta delle loro bollette. Ricorderai di dire che cosa ai tuoi genitori? Di fare la bolletta elettronica. E questo perché? Perché se no si spreca l'acqua.